Questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre indagati, appartenenti a due contrapposti sodalizi camorristici, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di estorsione, porto e detenzione illegale di armi, tutti aggravati alla circostanza del metodo mafioso. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di due persone che, agendo per conto del clan del Luca Bossa Minichini e Rinaldi, si sono rese responsabili di un tentativo di estorsione commesso il 12 gennaio 2018, ai danni del titolare di una piazza di spaccio attiva nel quartiere Mercato. Tali individui, nel momento in cui si sono recati alla vittima per riscuotere la tangente, sono stati affrontati all'indagato, appartenente invece al contrapposto cartello mafioso di Mazzarella, che ha esploso contro i loro numerosi colpi di arma da fuoco mettendoli in fuga. Gli eventi si inquadrano nell'ambito della violenta contrapposizione tra il suo delizio di Mazzarella e quello dei Minichini e Rinaldi di Luca Bossa, quest'ultimo interessato tuttora ad estendere la propria sfera di influenza dall'area di San Giovanni a Teduccio Ponticelli a quella del centro di Napoli.